Siamo a Rassi nel comune di Castel Focognano, è la base infatti dell'esercitazione di protezione civile, consulta 15, tre giorni, questa è la mattinata di sabato del secondo giorno, dedicata in particolare ai ragazzi delle scuole, il dottor Nicola Visi che è il responsabile della protezione civile della provincia di Arezzo ci spiega come è organizzata questa esercitazione. Sì, anche questa volta abbiamo simulato uno degli eventi che si possono vivrificare nel nostro territorio, un evento sismico e è stato coinvolto l'intero territorio comunale a supporto del comune, sono giunti i volontari da tutta la provincia, un grande coinvolgimento da parte tutta il sistema integrato di protezione civile, la grande collaborazione da parte del comando provinciale dei Vici del Fuoco che ci ha aiutato in un percorso informativo e formativo con la scuola media, la scuola elementare di Rassina simulando un'evacuazione in caso di evento sismico. Sono stati toccati tutte le frazioni del comune simulando una prima accoglienza ai cittadini che si sono mossi a seguito di un evento sismico. Quello che si nota è che l'organizzazione anche dei vari punti nei quali gli studenti vengono portati sono visite anche brevi e si riesce a mantenere alta proprio l'attenzione dei ragazzi. Sì, questo è un percorso che abbiamo ormai avviato da tempo con tutto il mondo del volontariato e con gli altri soggetti, enti che partecipano alle attività di protezione civile. Vengono presentate tutte le attività che vengono svolte in un campo, per esempio alle nostre spalle possiamo vedere l'attività di supporto psicologico che viene attivata in caso di un evento calamitoso per i più giovani ma anche poi per coinvolgere e trattenere gli anziani e insieme a questo poi le varie specialità, le unità cinofile, sono presenti poi i vigili del fuoco, il mondo del sanitario con la centrale del 118 e poi tutto quello che comunque è legato all'attività di un campo di protezione civile. Consigliare delegato per la protezione civile del nuovo consiglio provinciale, Massimo Pacifici, che possiamo considerare anche per motivi professionali, un esperto del settore che però si cimenta adesso in questo nuovo ruolo, credo che sia motivo anche di soddisfazione vedere una macchina che funziona in questo modo. La macchina è stata messa in campo, funziona benissimo, c'è stato un momento di incontro tra tutte le associazioni, ognuno ha visto il proprio ruolo, quello che deve fare, quello che può fare, quali sono le sue potenzialità, penso che sia una bella esperienza da ripetere, la ripeteremo ora in tutte le vallate e anche per i ragazzi numerosi presenti con le scuole è stato un momento anche loro di conoscenza, di incontro, hanno visto come funziona questa struttura e sapranno sicuramente confrontarsi nelle fasi successive.